2020 a sinistra appoggia il candidato del centro-sinistra alle regionali toscane Eugenio Giani, una coalizione che al tavolo ha riunito oggi anche l'intesa politica con articolo 1 e sinistra italiana. Si è parlato di un documento condiviso ed esposto alla stampa. I punti sono 6, acqua e beni comuni, sviluppo economico e ambiente, sanità e welfare, casa, istruzione, lavoro e giovani. Io sui servizi pubblici locali però ritengo che bisogna fare una riflessione più generale. Il fatto che la mente della gestione dei servizi pubblici in Toscana è sempre più precarizzata. In Francia il TPL, a Roma con Ascea l'acqua, a Torino con Italgas il gas. Insomma noi dobbiamo riportare magari con una multi utility una Toscana che possa avere forte il senso della gestione pubblica dei servizi. E in questo documento soprattutto si focalizza e condivido con pienezza. Il principio si parte dall'acqua che già un referendum aveva definito acqua pubblica e che a mio giudizio deve essere gestita con la logica del pubblico. Quindi investimenti che non vanno a arricchire i dividendi di società quotate in borsa ma il più possibile vanno a quello che è il bene dei cittadini. Sulla realizzazione della nuova pista di Peretola però non c'è intesa da sempre Simone Siliani. Non ha mai fatto mistero della sua contrarietà al progetto. Rimarrà una posizione diversa. Una posizione però che è dialettica, che c'è discussione. Anche la storia personale di ciascuno di noi è legata a questo, a una idea diversa di questo comparto. Non c'è niente di male. Le discussioni e anche gli accordi si faranno fra posizioni diverse. Noi confidiamo che sia possibile rispettare e questa differenza e anche però ascoltarci e discutere per trovare eventualmente soluzioni. Certamente il pronunciamento del Consiglio di Stato sarà un punto fondamentale a cui tutti in qualche modo ci dovremo attenere.